Ah Rocco Brac che delusione Io bro Secondo me Hakimi È molto più forte di Pogba Lo dico perché Pogba francamente rispetto a quello che doveva diventare Secondo me ancora non lo è diventato E invece Hakimi Ci paga i 100 milioni Sono pure pochi Sono pure pochi Perché o Rignò Centrocampista più dominante che io sto vedendo in questo momento in Europa Con facile distacco su gli altri Dominante Se questo giocasse nel Barcellona In Real Nelle squadre Si potrebbe 200 milioni Secondo me Secondo me il 100 non lo dà via Guarda che questo è uno che ti fa la differenza Ti tiene la squadra nei primi posti Stiamo parlando veramente di una star Io C'è un debole A me quando poi i giocatori mi piacciono così Un metro e 94 fa gol Preparando la palla con la suola Ragazzi Un uomone così Con la suola E poi di sinistro Così Un grande passo Con la suola E preparando la palla con la suola Ragazzi Un metro C'è un uomone così Un grande passo Con la suola E poi di sinistro Che giocatore Che giocatore Grazie Grazie Un lucky Grazie Razor Oh Con la suola di sinistro Zazazac Non so di chi parlasse in realtà Probabilmente di uno scarparo Perché è diventato meme Comunque Che giocatore Ragazzi Ho fatto solo quello Ma l'ho fatto bene E ho anche una percentuale di passaggi 40 riusciti Due sbagliati Dimini il covid salice Dimini il covid salice Che giocatore